Così come abbiamo fatto in altri casi al Comune di Napoli, interpretiamo le leggi ordinarie solo in maniera costituzionalmente orientata. Se ci sono violazioni dei diritti delle persone, violazioni dei diritti costituzionali, noi applicheremo la legge solo in conformità della Costituzione Repubblicana. Lo abbiamo fatto quando ci volevano far chiudere le scuole comunali assumendo maestre, lo abbiamo fatto quando non volevano dare diritti a bambini nate da persone dello stesso sesso e oggi lo facciamo con chi vorrebbe di discriminare le persone a seconda del colore della pelle. È indegno, inumano, antigiuridico e in violazione di tutti i principi costituzionali che un governo lasci morire persone in mare e in particolare donne e bambini. Il porto di Napoli è aperto, ho scritto al comandante della nave di dirigere la prua verso Napoli, non c'è nessuna ordinanza di chiusura, venite. E se qualcuno vi vorrà sbarrare la strada di fronte al porto, verremo con le imbarcazioni dell'umanità ad accogliervi nella nostra città.